Moreno Billium, stare per terra solo si morto. Lui ancora vivo non può restare così, d'arteufel. Adesso io mando il cameriere di mia casa. Grazie. Che ora può essere? Tartissimo. Oh, Marianne! Piccola cara, tu è stata a funeraria di soremmina. Sì, adesso mamma torna subito che prima deve andare a canto e ballo. Papà ci ha detto lì di fuori. Ecco, adesso è anche colpa mia che quello zozzone non si taglia mai unchi e di pieti. Aspettare che io risolverei tutto? Vieni!